Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast e Sala Giochi, io sono Andrea Maderna e quello che state ascoltando è un podcast che fa da metà di un double bill, per così dire, di una doppia offerta che vi proponiamo oggi, 23 gennaio 2020, per accompagnare la doppia uscita di due nuovi titoli della linea della collana Sega Aegis, come sempre curata da M2, che propone classici di Sega su Nintendo Switch, nello specifico si tratta di Fantasy Zone e Shinobi. Per Shinobi trovate un racconto d'ospizio scritto sul sito su Outcast.it, scritto da Andrea Babic, che racconta soprattutto la sua esperienza personale con il classico Shinobi, ma parla anche un po' di cosa offre questa riedizione che ha provato in anteprima, nei giorni scorsi. Io ho provato in anteprima Fantasy Zone e ne parlo un po' in questo podcast, vi segnalo comunque che c'è, se volete leggerlo, un mio vecchio racconto d'ospizio, lo linko anche nella descrizione del podcast, che scrissi quattro anni fa per l'uscita su Nintendo 3DS della versione, appunto, della riedizione in 3D di Fantasy Zone 1 e 2, che in larga misura viene recuperata da questa versione per Switch. Manca ovviamente l'effetto 3D e manca Fantasy Zone 2, c'è solo il primo gioco. Fantasy Zone, per chi non lo conoscesse, è uno dei primi cute map, se vogliamo, sparatutto arcade puffettosi, puccettosi, allegri, prodotto appunto da Sega, era un coin-op, poi convertito su Master System e anche su altre console, tra l'altro invece Fantasy Zone 2, così come curiosità, nacque su Master System e arrivò poi anche in sala giochi, ma questo appunto è solo Fantasy Zone e la versione che si trova qua è la versione, il gioco arcade, insomma, una riedizione, ripulita, quel che vuoi del gioco arcade, che include più o meno tutte le opzioni che c'erano nella versione per 3DS, a parte appunto il 3D, quindi ci sono i piccoli accorgimenti in termini di qualità della vita, tipo la possibilità di avere, di accumulare soldi da usare nel negozio a piacere, tipo il radar che indica la posizione delle basi, però diciamo che nella modalità classica il gioco è più o meno quello solito, certo, si può scegliere da che livello iniziare, cosa che aiuta abbastanza, perché Fantasy Zone era un gioco abbastanza bastardo, una specie di defender in cui poteva muovere liberamente verso l'estra e sinistra, bisognava distruggere delle basi, una volta distrutte le basi c'era il boss, fatto fuori il boss si completava il livello, e l'ultimo livello era un boss rush, con tutti i boss affrontati di fine e poi il boss finale, ricordo che su Master System non sono mai riuscito a sconfiggere il boss finale, va anche detto che dovevi rigiocartelo ogni volta da capo, qua puoi ripartire direttamente dall'ultimo livello e già è diversa la faccenda. Oltre al gioco diciamo originale, seppur un po' ritoccato, come la tradizione di Siga e ci sono altre cose, c'è una modalità extra in cui invece di dover accedere al negozio per comprare le armi, le si può selezionare in qualsiasi momento a patto di avere soldi a sufficienza, perché poi usandole si consumano i soldi accumulati, i soldi che si recuperano distruggendo le basi e i nemici. C'è un'ulteriore modalità time-up, anche ci sono altre piccole opzioni, a parte le classiche opzioni grafiche, c'è per esempio l'opzione attivabile, che va sbloccata giocando un po' di utilizzare i boss del Master System, perché la versione Master System aveva il quarto e il sesto boss che erano diversi da quelli della sala giochi, se si attiva quell'opzione in maniera casuale, quando si arriva al quarto e al sesto boss, si possono incontrare quelli del Master System invece di quelli del gioco arcade. Insomma, un po' di accorgimenti di questo tipo. Il gioco è sempre, secondo me, molto gradevole, molto difficile, però con questi nuovi accorgimenti moderni, sicuramente più abbordabili, si gioca bene, devo dire, su Switch. Tra l'altro, uno dei problemi, secondo me, della versione 3DS era che era un po' piccolo, onestamente, lo schermo del 3DS, per il tipo di grafica che aveva Fantasy Zone, che era comunque piccolina, se vogliamo, come dimensione degli sprite rispetto allo schermo, e su 3DS era un po' difficile giocare bene, specie considerando poi quanto a tratti Fantasy Zone sapeva essere bastardo. Mentre su Switch, già in versione portatile, si gioca, devo dire, molto bene, figuriamoci poi con modalità docked, attaccati a uno schermo gigante, si riesce a giocare, che è un piacere. Per il resto, è la classica riedizione che si può aspettare, le varie modalità grafiche, scanline, mica scanline, smooth, è quello che volete. Secondo me, la grafica è ancora un bel vedere, perlomeno in questa riedizione, funziona bene su Switch, è un bello shoot'em up vecchio stile, comunque particolare, perché ha questa struttura appunto alla Defender, che merita uno sguardo, se volete provare una cosa un po' retro, o se siete fan di Fantasy Zone, e magari non l'avete comprato su 3DS, o vi aveva deluso su 3DS per quel discorso della dimensione dello schermo, può meritare qua. Certo, capisco se vi girano un po' i coglioni, perché su 3DS c'erano entrambi i giochi, con oltretutto la rielaborazione 3D, e qua invece hanno scelto di separarle, c'è solo il primo Fantasy Zone. Ma che ci dobbiamo fare? Di suo la redizione, mi sembra di buona qualità. Direi che è tutto, grazie per l'ascolto, alla prossima. Grazie a tutti.